Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video C'è una testina pelosina che spunta qui Cosa stai facendo Ammit? Cosa stai facendo? Vuoi salutare? Sì, facciamo un salutino, va bene Io dovrei spiegare che video andiamo a fare oggi Vuoi spiegarlo tu? Lo diciamo insieme? Sì, è una challenge, è una challenge Infatti sì raga, oggi una nuova challenge E farò una cosa che non ho mai fatto finora Che potrebbe essere anche l'inizio di una serie di challenge Perché potrebbe non limitarsi soltanto a questa di oggi Si ridi o vi piace E sto qua a fare tutto questo hype per niente Visto che nel titolo ho già scritto tutto Infatti oggi mi sfiderò a mangiare per 24 ore Quello che decide un mio follower In realtà in questo caso una follower Perché è una ragazza Si chiama Daniela Quindi sarà proprio lei a decidere i miei pasti di oggi Ciao Daniela La scelta della persona per questa challenge è stata totalmente casuale Le ho proposto appunto quest'idea E sto molto contenta nell'accettare E quindi il mio futuro dei pasti di oggi È tutto nelle mani di Daniela Visto che dobbiamo partire dalla colazione Vediamo che cosa mi ha detto di mangiare per colazione Vado a leggervi direttamente dalla nostra conversazione Mi ha scritto Dunque per colazione devi mangiare uno yogurt E una fetta di pane con una crema spalmabile simil nutella Molto bene Ho tutto Apparecchio E mangiamo Ed ecco qui la mia colazione pronta Quindi come richiesto Daniela abbiamo la fetta di pane con una crema spalmabile simil nutella In questo caso è una crema alla gianduia buonissima Ovviamente vegana E poi qui abbiamo lo yogurtino In questo caso di soia al gusto frutte e cereali Siccome poi non ha specificato nulla sul bere Mi sono preparata un semplicissimo bicchiere d'acqua Posso dire che come colazione Daniela non è affatto male Perché lo yogurt a colazione a me fa impazzire Buonissimo me lo mangerai sempre Non è vero sempre no Soltanto quando fa abbastanza caldo per mangiarlo Oggi in realtà è una giornata un po' freddina Mi è andata male ma comunque va bene E il pane con una crema spalmabile simil nutella Non so perché ma è una cosa che non mi viene mai in mente di mangiare Non so perché Cioè proprio mi dimentico della sua esistenza Ma è buono quindi ci sta Grazie per avermelo ricordato Partiamo dal mio yogurt preferito in assoluto Quanto è buono non potete capire Cioè io uno yogurt di soia migliore di questo non l'ho mai trovato Mai Non è vero c'è quello della soia san Al gusto mi sembra pesca O qualcosa del genere Che è veramente molto molto buono anche quello Però non so se batte questo Forse potrebbe Dovrei paragonarli un giorno Mangiarli insieme e vedere quale è migliore Diciamo che per ora mi sta dando bene Visto che non mi sono beccata il classico Cappuccino e cornetto Che sapete che io proprio non sopporto L'avrà fatto apposta perché sa che non mi piacciono queste cose E mi vuole bene E quindi mi ha fatto mangiare qualcosa che mi piace Oppure mi è andata particolarmente di culo Chi lo sa Vabbè raga questo manco ve lo devo spiegare che è buono Per forza è buono Questa crema alla gianduia poi è devastante Sono molto 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 soddisfatta di questa colazione Ora me la finisco perché ho ancora un pochino di yogurt E questo pezzettino di pane E ci vediamo tra poco con il pranzo Chissà Daniela cosa avrà scelto per me Tra poco lo scopriamo Ed eccomi tornata per il pranzo Ho stra mega fame E la cosa che Daniela mi ha proposto per pranzo Non so se l'ho mai mangiata Cioè la cosa in sé sì ma il condimento forse no Adesso vi svelo Daniela mi scrive Per pranzo devi mangiare la versione vegana Dei ravioli con burro e salvia Se esiste Ovviamente sì che esiste Esiste qualsiasi versione vegana Di qualsiasi cosa Non vi preoccupate Però effettivamente non ho mai provato a fare burro e salvia vegani Anche perché generalmente Lo fai con la margarina O con un burro vegetale Sarebbe meglio con un burro vegetale E c'è un burro vegetale della Vallée Che è buonissimo Che purtroppo però io non ho Perché l'ho finito Quindi dovrò accontentarmi della margarina Che ha un sapore un po' invadente Un po' forte Che non mi fa proprio impazzire Però ci proviamo Anche perché Daniela ha richiesto questo E quindi sarà esattamente ciò che mangerò Vado a preparare il tutto Ci vediamo appena è pronto Ed eccolo qui il mio pranzettino pronto Possiamo dire che è una bellissima faccia Questi tortelloni vegani ripieni di tofu Ho scelto quelli di coro Conditi con burro e salvi ovviamente vegani E ovviamente immancabile Una bella spolverata di formaggio grattugiato vegano Molto bene L'aspetto è bellissimo Il profumino anche Forse questa margarina che ho preso Che non mi ricordo dove ho preso Non è così forte come l'altra che avevo Incrocio le dita Assaggiamo Wow È qualcosa di fantastico Sto per piangere raga Non so da quanto sia Che non mangio dei ravioli conditi con burro e salvia E questa versione vegana è uguale È precisa E confermo che questa margarina Forse l'avevo presa da Eurospin Non mi ricordo cavolo Comunque questa margarina Non è per niente invasiva a livello di sapore Quindi ci sta benissimo a ricreare Il ruolo del burro No vabbè è bellissimo Poi questi tortelloni di coro Sono veramente una bomba C'è il ripieno È proprio bello saporito Uno magari dice Vabbè Tortelloni ripieni di tofu Sai che bontà Sapranno di nulla no E invece sono proprio saporite Dannazione Sono buonissimi Da un nivora mangiavo spessissimo Le cose condite con il burro e salvia O anche soltanto con il burro E del parmigiano E non so perché In questi quasi ormai due anni di veganismo Non ho mai provato a ricreare questa cosa Che è semplicissima Cosa ci vuole? Assolutamente buonissimi Ma penso di essermi fatta Una porzione un tantino abbondante Sono 250 grammi Quindi non so se li finirò tutti In caso me li mangerò domani Bene sono molto felice Grazie Daniela Per avermi fatto provare questa cosa A cui io non avrei mai pensato Veramente grazie mille Ora mi finisco Non tutto il piatto Oppure sì Non lo so Insomma mangio finché Mi sentirò sazia E poi ci vediamo dopo Con la merenda A dopo Ed eccoci pronti Per la merenda Prendo subito il telefono Così andiamo a leggere Daniela Cosa ha deciso di farmi mangiare Per merenda In realtà io già lo so Infatti mi viene un po' da ridere Daniela scrive Per merenda Visto che dici sempre Che non mangi abbastanza frutta Mangia un frutto Va bene E qualsiasi frutto Quello che è in casa No Una merenda sana No Però questo ha deciso lei E quindi è ciò che andremo a mangiare Io in casa Avevo soltanto dell'uva E anche delle mele Però cioè le mele Non mi andavano molto Quindi mangerò dell'uva E che dire Va bene Ha ragione Daniela Io non mangio mai abbastanza frutta E questo è un buon metodo Per farmela mangiare Cioè obbligata da voi Tra l'altro è un'uva Straccarina Straparticolare Ve l'ho fatta vedere Nello svuota la spesa Tutta un po' così Rossina Non so che qualità sia Non so come si chiama esattamente Vediamo com'è Buona merenda Ci sta un sacco E sta dolce Buonissima Che palle raga Vorrei essere una di quelle type Che mangia un sacco di frutta A colazione A merenda Quando le pare E invece no Perlomeno Non faccio parte di quelle persone Che deve sempre levare I semini dalla frutta Io mangio tutto Mi interessa Quindi bene dai Alla fine sono contenta Di questa merenda Ci voleva Brava Daniela Ora io me la finisco E ci vediamo dopo Con la cena Chissà cosa mangerò E siamo pronti per la cena Madonna che fame Oggi raga Tutto il giorno Con una fame assurda Non so perché Sono proprio affamata Andiamo quindi a prendere Il messaggio di Daniela E vediamo cosa mangerò stasera Daniela scrive Per cena Ho scelto di farti mangiare Una cotoletta vegan Con le patatine fritte Daniela ma Io ti amo Grazie Che va bene Abbiamo fatto i sani Con la frutta merenda Però adesso Vediamo di riprenderci un po' Cotoletta vegan Con patatine fritte Un classicone Di cui sicuramente Non ci lamentiamo Vado a mettere tutto in friggitrice d'aria E ci vediamo appena è pronto Ed ecco la nostra Meravigliosa cenetta pronta Come Daniela ha richiesto Patatine fritte E cotoletta vegan Non potrei chiedere di meglio Veramente Bene 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 Partirei assaggiando Queste patatine Spero che all'interno Siano cotte Qualche dubbio Vediamo Sì sì sono cotte In realtà potevo anche Lasciarle un minutino in più Ma fuori mi sembravano Già belle duratine Comunque buone Ovviamente ho usato Delle patatine surgelate Anche perché secondo me In friggitrice d'aria Riescono meglio queste qua surgelate Piuttosto che prendere proprio Le patate tagliarle E metterle all'interno Ci vuole una vita E poi il sapore in sé Ma non è che ne valga proprio la pena Invece queste ci stanno Come cotoletta vegana Invece ho scelto questa qui Che è quella Sempre surgelata Di Lidl Che ogni tanto prendo Perché appunto Non sono affatto male Però da un po' Che non la mangiavo Non mi ricordo neanche Che sapore ha onestamente Proviamola Buono 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 Anche se vi devo dire Io sono abituata a mangiare queste cose Con una salsa Daniela non ha specificato Nessuna salsa purtroppo Quindi non posso aggiungerla al mio piatto E per via di questa cosa Il tutto mi sembra un po' Un po' secco Ecco dopo un po' diventa un po' difficile Invece una bella salsina Avrebbe accompagnato proprio Nel modo perfetto questo piatto Ma va bene dai Comunque ci accontentiamo Devo dire che in generale È stata una buona giornata Tutti dei buonissimi pasti Infatti visto che ormai Siamo giunti alla fine di questa challenge Direi di scegliere un bel hashtag Della fine da scrivere qui sotto nei commenti E l'hashtag della fine potrebbe essere Ce l'ho Facciamo hashtag Grazie Daniela Assolutamente Dichiamo l'hashtag Alla follower Che oggi ha deciso Cosa ho mangiato per 24 ore Hashtag Grazie Daniela Scrivetelo qui sotto nei commenti Fatemi sapere assolutamente Cosa ne pensate di questo format Cioè vi piace l'idea Che ogni tanto prendo un follower O una follower a caso E faccio scegliere a questa persona Cosa mangerò per 24 ore Voi ad esempio partecipereste a questa cosa Fatemi sapere un po' Perché io mi sono divertita un sacco Mi piace questo tipo di challenge O se comunque avete anche altre idee in mente Per altre challenge Non fatevi problemi a proporle qui sotto nei commenti Io vi ricordo che in descrizione Vi lascio tutti i link di tutti i miei social Così se vi va potete seguirmi anche lì Vi ringrazio tantissimo come sempre Per essere rimasti con me anche in questo video E noi ci vediamo al prossimo Ciao Ciao